Grande fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, il motivo del distacco I due ex concorrenti del Grande Fratello, avrebbero avuto un litigio, ecco il motivo dell'unfollow e delle foto di coppia scomparse Ieri, i fan dei Beabaldi, ovvero i sostenitori della coppia del Grande Fratello, formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno ricevuto una doccia gelata guardando le mosse social dei due ex geffini Grande fratello, gelosie e ripicchi tra Beatrice Luzzi e Garibaldi Grande fratello, la Luzzi ha smesso di seguire su Instagram il bidello calabrese e inoltre sono sparite tutte le loro foto in cui erano insieme Su X, precedentemente noto come Twitter, diversi utenti hanno criticato queste mosse social, alimentando le voci su una crisi tra i due ex geffini La Luzzi, decisa a chiarire la situazione, è quindi intervenuta direttamente sulla questione, lasciando però qualche dubbio Io non l'ho tolto, riferendosi al segui su Instagram, ha dichiarato Beatrice, non so cosa sia successo. A volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui. Che pille Le motivazioni tuttavia hanno lasciato non poche perplessità E se da una parte c'è chi non crede per nulla alla loro relazione, dall'altra, l'esperta di gossip dei Anira Marzano, ha fornito il motivo del loro allonantamento Secondo quanto ha riferito, sembrerebbe che i due ex geffini abbiamo avuto un litigio a causa di alcuni comportamenti di Giuseppe che avrebbe insfastidito Beatrice Pare che Beatrice e Giuseppe abbiano avuto una discussione perché a lei hanno girato dei video di Giuseppe durante il party dove si tenevano i provini del GF e dove poi lui ha seguito una ragazza su Instagram un po' per farla ingelosire Vabbè, comunque niente di grave, l'amore non è bello se non è litigarello